Ciao ragazze, bentornati in questo nuovo video! Oggi voglio mostrarvi il mio kit da makeup artist da lavoro quindi la mia valigia, il mio trolley con tutti i prodotti che utilizzo proprio a scopo professionale Allora, io non ho un trolley proprio da makeup artist, ma utilizzo una semplice valigia e in realtà dipende un po' da quello che mi devo portare se mi devo portare molti prodotti utilizzo una valigia da trolley altrimenti utilizzo proprio una borsa un po' più piccola dipende un po' da quanti prodotti devo portare generalmente comunque utilizzo sempre un trolley Premetto che vi mostro un attimo la mia valigia base quindi quello che uso generalmente poi ovviamente in base alle occasioni, in base al tipo di trucco che devo fare se è un trucco particolare o richiede determinati prodotti vado ad aggiungerli quindi questo qua è un kit per un trucco normale non so, da cerimonia, da giorno, da festa non è un kit con dei trucchi molto particolari Allora, io suddivido la mia valigia in dei beauty case in base alle cose che devo mettere dentro adesso non fate caso che i prodotti sono un po' sporchi anche i pennelli perché l'ho appena usata e devo rilavare tutto però volevo fare questo video subito, se no poi non so quando l'avrei più fatto quindi iniziamo subito Allora, in questo beauty case metto tutto ciò che serve per la detersione e la cura del viso utilizzo come latte detergente, questo è un prodotto qui che è un gel di bambù molto rinfrescante e anche un po' purificante secondo me è un profumo molto buono, molto fresco serve giusto per detergere il viso in delle occasioni particolari questo qui è della marca Institute Milano che lo vendono presso il BCM Beauty Store di Milano che è il negozio della scuola di trucco BCM poi come struccante generale utilizzo l'acqua micellare di Bioderma porto di solito questa versione piccolina qui per non portare il bottiglione da 500 ml perché è più pratica, sta meglio in valigia e anche se si dovesse aprire non perdo 500 ml di prodotto ma ne perdo 100 ml al massimo perché costa tantissimo è questa comunque una delle acque micellare i migliori esistenti è proprio analergica direi quasi anche se non possono esistere prodotti analergici perché succa bene ma è a bassissimo rischio di allergie non c'è dentro proprio niente se nemmeno il Lina All o altri prodotti che possono provocare allergia è fantastica quindi va benissimo per tutte le pelli poi invece se faccio un trucco molto molto pesante devo struccarlo utilizzo questo bifasico di Sephora che va bene anche per il trucco waterproof anche se solitamente con l'acqua micellare riesco a cavarmela poi porto dei cotton fiocca questi qui sono quelli con la punta da una parte per correggere delle imperfezioni o per sfumare qualcosa insomma sono sempre utili poi porto dei semplici dischetti di cotone questi sono del Carrefour normalissimi poi ho le mie spugnette queste le ho prese un po' di tempo fa da Muji perché è un bel pacco con tante spugnette dentro di varie dimensioni quindi è molto utile e poi utilizzo come crema ho una di Aven il Drans Optimal per le pelli normali e miste questa qui o altrimenti per le pelli secche utilizzo una crema buonissima sempre di Institute Milano che è la crema gli acidi della frutta la trovo veramente molto buona e molto idratante per pulire poi qua ho anche il prodotto per pulire i pennelli che è il Brush Cleanser di MAC per la pulizia veloce ovviamente per quando bisogna pulire i pennelli tra un prodotto e l'altro e poi vabbè qua metto anche il mio SOS Mani Pulite che è il gel disinfettante per le mani dell'Evro Shake che è buonissimo io adoro passiamo poi alla parte viso solitamente la raggruppo tutta in questo beauty case che avevo preso il regalo da Yves Rocher alcuni mesi fa solitamente in questo metto tutti i fondotintavari e poi ho un'altra poscetta abbastanza grande trasparente in cui metto altri cosmetici tipo mascara ciglia finte piegaciglia e altre cosine in modo da vederli subito perché comunque i fondotinti si vedono abbastanza velocemente adesso è un po' disordinato perché come dicevo l'avevo usato comunque per il momento ho messo tutto qua dentro perché ho dovuto fare un trucco con pochi prodotti per un problema di allergie quindi avevo proprio selezionato pochissimi prodotti quindi qua dentro ci stava tutto e adesso in realtà ho fatto un po' un mix quindi partiamo dai prodotti che utilizzo per il viso come fondotinta allora utilizzo due fondotinta Dermablend di Vichy che sono fondotinta molto molto coprenti però se si sanno usare si può ottenere anche un risultato abbastanza naturale poi di Make Up For Ever ho sempre tre fondotinta perché faccio i mix per ottenere i colori ideali del Matte Velvet che è comunque un fondotinta sempre più o meno per pelli grasse e con imperfezioni poi utilizzo sempre tre fondotinta della linea Make Up For Ever HD quindi fondotinta ad alta definizione per le foto vanno benissimo hanno comunque un effetto abbastanza naturale però bello devo dire che odio i tappi di questi fondotinta perché si aprono in continuazione poi ho altre tre colorazioni del fondotinta Face & Body sempre di Make Up For Ever che è un fondotinta a base diciamo acquosa una soluzione acquosa ed è diventa waterproof questo qui e va bene anche per il corpo quindi anche di questo ne ho tre tre colorazioni poi ho un primer di Make Up For Ever per il viso della linea HD e sempre di Make Up For Ever utilizzo il fissante spray questo è il mist fix con cui si può fissare il trucco si possono mischiare gli ombretti si possono fare diverse cose poi ho dei fondotinta di La Roche Posay che uso per pelli secche solitamente anche un po' ed è il Tolerian Taint non so bene come si pronunci perché il francese proprio non lo so e questi qua sono di fondotinta davvero molto leggeri effetto naturale molto molto idratanti come correttori ho le due palettine di MAC con il correttore di tipologia studio finish e qua ci sono proprio tutti i sottotoni sono davvero fantastici questi mi sa che si trovano solo al Mac Pro al iMac Pro poi porto anche una palettina di correttori di Egizia e qua ci sono diverse colorazioni c'è il verde il marrone scuro l'aranciato il beige chiaro c'è un mix di colorazioni e questi qua sono un pochino più morbidi rispetto agli studio finish di MAC sempre per quanto riguarda il correttore ho l'irace past di Benefit questo è un correttore per le occhiaie aranciato e poi utilizzo anche il Dermablend il correttore Dermablend che è ottimo questo qua lo utilizzo sempre per le occhiaie una sorta di aranciato tenue comunque molto buono l'avete già visto in diversi video come cipria invece utilizzo questa di MAC che è la cipria fissante in polvere libera molto tradizionale va bene per tutti i tipi di pelle in linea di massima va bene un po' per tutti è trasparente quindi per me è proprio un passepartout e si trova anche questa se non sbaglio nei MAC pro quindi nei negozi MAC riservati diciamo ai professionisti ma ovviamente possono comprare tutti poi passando ai fard utilizzo prettamente i prodotti la masca che sono le fard buonissime che durano un sacco e ho sia le tonalità in crema che in realtà non utilizzo quasi mai e ho Rude che è questo pescato poi Seduce che è questo rosa un po' più intenso un po' più carico Dixie che anche questo è una sorta di pescato per quanto riguarda il blush in polvere invece ho Naked Rose che è un colore veramente molto molto leggero rosato chiarissimo poi ho Twicca che anche questo è proprio il contrario un bel fucse intenso poi utilizzo Bag che è un rosa carne un po' intenso non ve lo faccio vedere perché purtroppo mi si è sfracellato in mille pezzi e poi ne ho un altro che è quello che utilizzo di più perché è bellissimo si chiama Assi è un rosa un po' naturale ma non troppo è proprio una via di mezzo purtroppo non ce l'ho qui andate a guardarlo su internet magari su google nei swatch perché è bellissimo e questi sono i miei blush che utilizzo di più perché sono veramente fantastici però in realtà ho anche una palette di Egizia che avrete già visto con alcuni blush che utilizzo proprio se mi servono queste colorazioni in realtà quasi mai comunque se mi servono ce le ho portate di mano l'ho trovato Assi eccolo qui è un bellissimo rosa pescato praticamente ho utilizzo su quasi tutte le persone questo sta bene a tutti è fantastico ok per il visto penso di aver finito andiamo un po' avanti un po' random ho il piegaciglia ovviamente primer per gli occhi di Urban Decay buonissimo lo conoscete tutte lo adoro utilizzo anche una sorta di lip erase non lo metto ma non lo utilizzo quasi mai che è un cancella labbra per quando bisogna rendere il rossetto più per quando si vuole mettere risalto di più il colore del rossetto perché magari si ha le labbra molto scure o si vuole un po' ridefinire le labbra come mascara utilizzo il Day Real di Benefit che è un mascara fantastico fa delle ciglia allucinanti lo conoscerete tutte come waterproof utilizzo uno di Clarins un mascara di Clarins questo non so bene quale sia perché ho buttato la scatola comunque mi sa l'unico mascara waterproof che hanno poi sempre di Clarins utilizzo il Double Double Fix mascara che serve a fissare le ciglia sia le ciglia sia le sopracciglia molto buono poi ho anche dei scovolini diciamo così monouso per inchingere il mascara per mettere il mascara anche se devo dire che l'effetto si perde molto con queste qui ovviamente pinzetta becchi doca perché possono sempre servire per fissare i capelli poi della blistex utilizzo questo Daily Lip Conditioner che è un bassamolabbra molto idratante e poi passiamo agli occhi allora tengo in linea di massima questi due ombretti in crema anche se in realtà poi ne ho anche altri che sono il Bare Study di MAC che è una base molto perlata che va bene un po' per tutto ovviamente per fare dei trucchi perlati è molto buona e Rubenesque sempre di MAC che in realtà questa qua è una base più estiva dipende un po' anche dalla carnagione dei colori della persona sul dorato arancio è molto carina poi ovviamente tengo i piumini per fissare il prodotto per fissare la cipria o anche per da tenere mentre trucco le persone per quanto riguarda i pennelli allora per il trasporto li metto tutti in un portapennelli porto tutti quelli che ho perché mi servono tutti adesso attualmente è vuoto praticamente vedete però di solito li metto tutti qui poi però siccome questa soluzione non mi piace mentre utilizzo i pennelli mentre trucco travasso tutti i pennelli in questo bellissimo portapennelli questa di Neve Cosmetics che come vedete si apre in due parti da una parte solitamente metto i pennelli usati e dall'altra metto i pennelli puliti così so quali prendere o altrimenti faccio una parte con i pennelli viso e una parte pericco con i pennelli occhi sono tantissimi sono tutti quelli che ho se volete vedere un video sui pennelli ve lo lascio qui con tutta la spiegazione dei pennelli porto tutti perché mi servono ovviamente e così li prendo molto più facilmente poi ovviamente quando sono sporchi non li rimetto più dentro con la custodia ma li metto direttamente qui e mi riporto via per non perdere troppo tempo per quanto riguarda il viso porto le due necch sono fantastiche vanno bene per tantissimi trucchi le adoro poi ho comprato nel corso degli anni adesso non guardate un po' il casino che c'è perché devo pulirli perché dopo che faccio un trucco e dopo che porto in valigia i cosmetici ovviamente la polvere si diffonde dappertutto ogni volta devo ripulire tutto comunque porto questa palettina qui di ombretti di varie marche ingot mac blush terre c'è un po' il mix di tutti e anche con questi questi sono gli ombretti che non ho e che utilizzo di più poi ho altre palettes egizia ho questa qua degli shimmer con tutti i colori brillantinati e poi questa con tutti i colori della terra che si possono utilizzare anche come terre per il viso colori chiari per il contouring e poi vabbè quella di flash che vi ho già fatta vedere prima ne ho anche un'altra in realtà che è con tutti i colori colorati forti in realtà non la utilizzo quasi mai perché mai nessuno vuole un trucco del genere e poi non mi fa nemmeno tanto impazzire ah e poi per finire porto per scorta perché in realtà non la uso quasi mai proprio se mi serve un colore che non ho ma è davvero una cosa rara questa palettina qui con tutti i colori possibili e immaginabili dei colori più chiari i colori più sgargianti questa la porto proprio come jolly nel caso in cui mi servisse un colore perché comunque preferisco utilizzare gli altri stavo dimenticando che per gli occhi porto ovviamente l'eyeliner questo è di MAC il black track è fantastico si possono fare un sacco di sfumature un eyeliner in qualsiasi modo possibile immaginabile si può sfumare è super resistente veramente il migliore penso e poi ho anche le ciglia finte che utilizzo sempre quella di MAC a ciuffetti o altrimenti le ciglia finte proprio intere poi ovviamente queste sono cose che dipendono un po' del trucco che bisogna fare solitamente si sa già prima se servono dei prodotti particolari comunque questi sono quelli che porto sempre con me mi stavo dimenticando le matite allora in realtà adesso non so se stare a farvi vedere tutte le matite che ho comunque ho un tot di matite per le labbra utilizzo molto quelle di le pastelle di Neri Cosmetics perché mi trovo molto bene ho le matite di Diego Dalla Palma MAC Egizia anche quelle sono molto buone in tantissimi colori per le labbra per gli occhi ne ho di tutte di più ne ho di MAC ne ho di Digo Dalla Palma no Digo Dalla Palma no ne ho di MAC di Make Up For Ever poi anche per le sopracciglia ho delle matite di MAC e diciamo che le matite non le utilizzo tantissimo per il lavoro uso di più per le matite per gli occhi uso di più i ombretti però comunque non si sa mai possono sempre servire ne ho tantissime poi ovviamente ho temperino il tempera matite e le matite per sopracciglie utilizzo anche qualche volta questa di Pupa quelle di MAC qualcosa sempre di Neri Cosmetics ma in realtà più che altro utilizzo sempre ombretti per tutto poi poi come rossetti ne ho davvero tanti allora principalmente se devo fare un trucco che dura tante ore utilizzo il rossetto bifasico di MAC il Pro Longwear Lip Color e oltre colorazioni molto naturali un rosa più chiaro che è Unchanging e un rosa un po' più caldo che è For Kips che è più scuretto se no ne ho davvero tantissimi di MAC tutti quelli che avete visto nel video i miei rossetti MAC che vi metto qua e generalmente ho in una pochetta tengo colori naturali in un'altra tengo colori più pazzi così tanto solitamente vogliono sempre tutti i colori naturali stranamente la gente vuole osare anche perché se è una persona che non si trucca non si mette un fucsia o un rosso comunque tra quelli che uso di più ci sono il numero 18 di Egipcia che è un bellissimo color carne molto naturale poi ho anche un rosato il numero 30 di Make Up For Ever poi di MAC il come si chiama questo Bar Again che è un bellissimo rosa naturale molto glossy poi questo non è un rossetto ma è il primer per le labbra da utilizzare soprattutto sui contorni per evitare che i contorni sbavino il rossetto sbavi in realtà non ve lo consiglio ad acquistare perché non è niente di eccezionale e poi tantissimi rossetti MAC tutti quelli che avete visto come gloss non ne utilizzo tanti perché se devo fare un gloss preferisco mettere sotto il rossetto e sopra mettere questo trasparente di Egizia ma solitamente i gloss ne utilizzo pochi quindi ne ho una mini taglia di Urban Decay in un colore molto naturale questo non so quale sia e poi ne ho un rosa più Barbie di La Masca però i gloss solitamente non fanno impazzire nessuno in generale e poi come tinta per labbra porto questa distila e poi come tinta per labbra porto questa distila che è una che non esiste in Italia è consigliatissima da Clio la porto ma non la uso in realtà così mai perché non è poi così naturale come dice lei e vi rompo più al fucsia nell'altra pochette come notate anche questa di Rochette perché è davvero una collezione di pochette in Rochette perché sono davvero ughi di devo dire questi regalini a pochette perché posso suddividere i trucchi ho altri rossetti più intensi sempre di Egizia di MAC per esempio il Candy Yum Yum che è un bellissimo fucsia comunque tutti quelli che avete visto nel video sulla sui miei rossetti MAC e poi porto anche questi di Pupa di una collezione limitata perché sono dei colori molto scuri che in realtà non ho nel mio non ne ho molti nel mio beauty case quindi preferisco utilizzare questi anche perché mi piacciono abbastanza che sono il numero 003 questa era della linea mi sembra tonnale sempre di color vinaccia bordo scuri così e niente questo è il mio beauty kit da lavoro oltre a questo anche una palettina come si dice una tavolozza trasparente su cui mischio i colori che adesso non so dove io abbia messo e spero che questo video vi sia stato in qualche modo utile e niente ci vediamo al prossimo video ciao ciao